Il Centro Studi Karate, diretto dal dottor Vincenzo Orsino, che da quasi 30 anni opera a livello internazionale con risultati egregi, anche quest'anno proporrà nel mese di ottobre il progetto Karate Giocando. L'iniziativa è sostenuta dall'Associazione Italiana Cultura e Sport, che ha sposato in pieno il progetto per lo spirito aggregativo e per la funzione sociale che esercita, fornendo gratuitamente l'accesso ai corsi a tutti gli appassionati di arti marziali. Il progetto, che ha come titolo Karate Giocando, la scoperta del proprio corpo attraverso il Karate, è incentrato sulla disciplina delle arti marziali, che partendo dai principi formativi di base, fortemente sostenuti da un forte coinvolgimento sportivo, senza tenere in considerazione se si vince o se si perde. Abbiamo incontrato Vincenzo Orsino, del Centro Studi Karate, cintura nera, quinta dan ed arbitro mondiale. Il progetto esordisce il maestro Orsino, si rivolgerà ai bambini e ai ragazzi che non superano i 13 anni, offerto in forma gratuita e si svolgerà a Siderno presso la palestra della scuola elementare Pascoli.